Sì, vai Max. Se lo mettete in qualche cosa con il quale, se il peso è leggero, cercate di farlo più pesante. Per cui in questa maniera io posso andare avanti quanto? Se faccio con contrazione, diventare qua 1000, 2000, non ne prenderò mai leggero. Per cui che cosa faccio? Prendo un peso che per me può essere un buon compromesso tra ripetizioni per quanto riguarda il bodybuilding e peso. Cercando di tenere classica esecuzione, quando poi non si può più ci si fa aiutare e tutto il resto per arrivare al nostro. Per quanto riguarda me, invece io mi trovo, il mio peso, chiaramente, devo fare per l'intensità che mi serve. Mi serve avere qua, perché io metto tutta una coronina e 24 kg, perché so che più o meno 8 le riesco a fare. 8 e poi andremo oltre con lo spotter per andare ancora a doppio. Ma questo è un buon compromesso tra peso, una grande intensità. Se avessi messo un pesetto, come vi ho fatto vedere prima, avrei potuto andare avanti con una dita. Per creare che cosa? Nulla. Laizia giovane. Grazie. Grazie. Vai. Guarda. Difficile. Ok. Si fa due o tre in questa maniera, molto pesante, poi si fa un paio in super set per chiamare sangue. Questo è il primo esercizio. Vediamo di fare un altro pesante per poi andare direttamente su serie da quindici. Per almeno su venti serie. Grazie. Aspetta un attimo. Tu sei già... ok. Dopo ho fatto gli esercizi pesanti, perché devi diutile non è come stato raccontato. Adesso possiamo divertirci a chiamare sangue, lattato e tutto il resto con un'osepuzione più che perfetta. Però arrivare sempre ad ogni limite, sempre. Chiaramente adesso è un muscolo esausto per cui il peso va passato per forza. Ok, sei maestro? Ok. Poi cerchiamo di fare la presa più difficile possibile con questi cazzi di cose. Vediamo se... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti